Un impegno civico costante al servizio della collettività e delle fasce sociali più deboli. Lo continua a garantire il consigliere comunale Dante Santoro che ha inaugurato questa mattina il secondo presidio della Casa della Salute, una iniziativa già collaudata e fortemente evoluta dal consigliere possibile grazie ad un team di medici volontari che garantiscono visite e cure gratuiti a persone in stato di disagio. Un'azione concreta in una regione dove il diritto alla salute sembra ormai diventato un lusso negato a migliaia di persone. E così dopo le oltre 200 viste gratuite nel quartiere Sant'Eustachio, questa mattina un nuovo presidio nel cuore della City, in piazza San Francesco. Continuiamo con la nostra missione per mettere al centro il diritto alla salute, il diritto alla prevenzione. Due parole che ormai sono lusso per migliaia di cittadini in Campania, un territorio purtroppo che è noto alle cronache nazionali per gli scandali nella sanità, per i diritti negati a migliaia di famiglie e persone. E noi abbiamo voluto dare una risposta concreta, unendo le anime belle della città di Salerno, medici volontari, tanti attivisti, abbiamo fatto nascere la casa del diritto alla salute che oggi segna un passo importante. Perché si raddoppia l'impegno, dopo il presidio di Sant'Eustachio nella zona orientale, dove abbiamo fatto effettuare più di 200 visite e cure gratuite, arriviamo anche in centro, grazie alla disponibilità della parrocchia Santissima Immacolata, del dormitorio, dove oggi ospitiamo 8 medici volontari, anzi più di 8 medici volontari, in 10 branche mediche diverse. Penso che supereremo le 100 visite soltanto oggi, quindi un grande segnale concreto, una risposta fattiva alle problematiche della sanità, alle istituzioni dormienti, a una regione che purtroppo ha reso il diritto alla salute inaccessibile per migliaia di concittadini. Quindi si va avanti con questo progetto, siamo contenti di poter annunciare che abbiamo anche un presidio in centro e ricordiamolo, ovviamente tutto questo è organizzato per le persone in stato di bisogno, persone che sono in piena povertà e altrimenti vedrebbero inaccessibili le cure, perché purtroppo non possono pagarsele e abbiamo istituzioni che lasciano indietro gli ultimi e chi purtroppo è in uno stato di difficoltà.